Enzo Cacciola, uno dei protagonisti degli anni della pittura analitica, appunto gli anni della pittura analitica, un periodo non un manifesto, una tendenza in cui tu eri uno dei protagonisti. Qual è il tuo ricordo breve dell'epoca? Il ricordo breve è quello che tra il 73 e il 74 avviene qualche cosa. Io prendo i colori delle belle arti, il colore a olio, il telaio con le zeppe del negozio delle belle arti, cambio tutto perché anche il 68 va cambiato il modo di pensare, il modo di ragionare, la politica, un cambiamento sociale, anche la mia pittura doveva cambiare. Ed ecco che allora invece della pittura a olio il cemento diventa la mia materia della pittura. Perciò su questa tela, che è una tela elastica, che non è un cemento come altri miei colleghi, che può essere i uncini e staccioli che usano invece il cemento con i ferri e tutti. Questa invece è una tela dove il cemento per me sarebbe l'olio che si usava un tempo. Ecco, questo è stato uno degli elementi, assieme al processo della pittura, che ti ha fatto considerare da parte dei critici dell'epoca degno di essere inserito in questo contesto. Certo, certo. Praticamente la svolta importante è stata quando ho incontrato Klaus Hornef a Bonn, perché facendogli vedere il processo operativo, queste stesure di cemento e il lavoro che diventa opera, proprio per quello mi ha invitato alla documenta Kassel. E sono lavori che ancora oggi reggono la modernità. Certo, adesso parlando non del mio lavoro, ma del mio lavoro nel contesto con tutti gli altri colleghi, certamente erano avanzati allora, in quel periodo, con questo meccanismo veramente del cambio della società in tante cose. Oggi sono modernissimi, sono attualissimi, sono diciamo qualcosa di importante, ma io credo che siano importantissime anche per il discorso che finalmente si discute e si parla che gli anni 70 non hanno solamente due vie, ma ce ne sono tre. Grazie.